ciao a tutti oggi proviamo il mavic 3 con il nuovo firmware che è stato rilasciato il 31 di maggio e che ha introdotto importanti novità ma proveremo anche le lenti proibite le lenti che dji non vende in europa queste sono quelle della freewell benvenuti in un nuovo video di quadricottero news iniziamo dalle nuove lenti freewell ha prodotto queste due nuove lenti una lente grandangolare con un fove di 125 gradi che è questa è una lente anamorfica che è questa che ha un rapporto di 1,18 per il the squeeze queste due lenti così come la lente grandangolare che produce direttamente dji fanno superare il peso di 900 grammi al mavic 3 motivo per cui dji ha scelto di non vendere in europa la sua lente grandangolare in pratica dji non vuole che in europa volino droni mavic 3 sopra i 900 grammi di peso possiamo dire che dji proibisce in europa l'uso della lente grandangolare sul mavic 3 è una strana scelta da parte dji perché il regolamento europeo droni attualmente in vigore per i droni senza marcatura di classe come è il mavic 3 in questo momento provvede due modalità di conduzione fino al primo gennaio 2024 il mavic 3 può essere condotto in categoria 3 che riguarda i droni fino a 25 chili ad almeno 150 metri di distanza dalle zone residenziali industriali eccetera però il mavic 3 può essere condotto anche nelle cosiddette a2 limited che riguarda i droni senza marcatura di classe fino a due chili questi droni bisogna condurli mantenendo almeno 50 metri di distanza dalle persone non informate quindi che il mavic 3 pesi meno di 900 grammi o più di 900 grammi per il regolamento attuale non cambia nulla può essere condotto comunque nelle a2 limited oppure in a3 invece dal primo gennaio 2024 ci saranno sarà obbligatorio immettere sul mercato droni con marcatura di classe e quindi il mavic 3 se sarà marcato c1 peserà per forza meno di 900 grammi mentre se peserà più di 900 grammi sarà marcato c2 se fosse marcato c1 installando queste lenti decadrebbe la marcatura di classe e finirebbe nelle specifiche quindi la decisione dji di non vendere in europa la lente grandeangolare avrebbe senso soltanto se il drone avesse la marcatura c1 siccome non ha la marcatura c1 questo divieto non ha veramente senso probabilmente dji ha scelto di fare così perché intendeva attivare la marcatura retroattiva però sta passando tempo gli standard sono ancora in corso di definizione il mavic 3 sta invecchiando anche se è nuovo a pochi mesi di vita però e quando saranno definiti gli standard di marcatura più la possibilità di retromarcatura e il mavic 3 sarà magari vecchio e sarà già uscito il mavic 3s oppure il mavic 4 quindi attualmente non ha veramente senso questa decisione comunque noi possiamo bypassare questo divieto comprando le lenti freewell che ci permettono di fare le stesse cose tra l'altro freewell mette a disposizione anche dei filtri nd per queste lenti si applicano in modo molto semplice ad incastro e la cosa che mi piace molto è che la camera tele viene lasciata libera dal filtro perché si tratta di un sensore diverso quindi applichiamo il filtro alla camera principale ma non alla camera tele perché applicare lo stesso filtro a tutte e due le camere sarebbe deleterio per quella tele essendo diversa in totale ci sono quattro filtri nd 8 16 32 e 64 ovviamente anche per la lente anamorfica che si installa allo stesso modo il nuovo firmware ha sbloccato le possibilità d'uso della camera tele adesso è possibile scattare foto in ib e in burst in jpeg e in rav e anche per i video in modalità tele si possono cambiare gli fps è possibile cambiare gli iso lo shutter speed e bilanciamento del bianco miglioramenti anche per la camera acerblad è stato aggiunto il profilo colore hlg che aiuterà i principianti oltre al già presente di log si possono registrare master shot quick shot con entrambi i profili ad esclusione di asteroid è stato inserito lo slow motion a 200 fps a 1080p e lo zoom della camera principale adesso può raggiungere i 3x in più è stato sbloccato il potenziale delle lente grandangolari con cui adesso si possono fare anche master shot e quick shot ma la domanda che si fanno in molti è stata migliorata l'acquisizione satelliti gps è ancora lento come prima verifichiamolo subito nel frattempo parliamo delle ulteriori novità di questo firmware per la versione cina è stato aggiunti il progress 422 422 lt è stata aggiunta la modalità nifty per il bypass cioè la modalità elegante di aggiramento ostacoli che però è più pericolosa rispetto al bypass normale da usare con cautela quindi è stata pubblicata una loot rec 709 vivid è stata migliorata la capacità di messa a fuoco della camera tele e sono stati risolti alcuni bug in hyperlapse comunque vediamo quanto tempo ci sta mettendo per agganciare i satelliti sono già passati 40 secondi vediamo cosa accade questo è un nuovo posto prima non l'avevo ancora acceso in questa località l'ultima volta che l'ho acceso qua sarà passato un mese poi però sono andato a volare in altre zone quindi questa è la prima accensione in questa località ecco ha agganciato 8 satelliti passato un minuto 10 satelliti 11 12 ed ecco che ha fissato l'home point 1 minuto e 14 secondi direi un buon risultato dal momento che è stata la prima accensione dopo tanto tempo in questa nuova località è ancora leggermente più lento rispetto ad esempio altri droni come il mini 3 pro però è un risultato soddisfacente e allora proviamo subito la lente grandangolare proibita è un FOV di 125 gradi non ho utilizzato il filtro anche se avrei dovuto farlo comunque vediamo 4k a 30 fps e questo è l'effetto un effetto che a me sinceramente piace molto in particolare in questo ambiente un bel effetto gradi angolare senza senza distorsione tra l'altro sto guardando se noto un effetto di vignettatura ma pare di no comunque questa è una prova veloce poi prossimi voli farò degli esami un po più approfonditi questo diciamo che è una presa di contatto sul nuovo firmware quando installiamo queste lenti il sistema si accorge che sono state installate probabilmente per il peso e quindi in precedenza limitava molto le possibilità d'uso questo nuovo firmware ha sbloccato molte possibilità d'uso anche quando sono installate queste lenti aggiuntive lo vedremo tra poco è possibile comunque fare lo zoom anche con la lente grandangolare ovviamente si perde qualità ma lo sappiamo a parte il 7x che è nativo tutti gli altri ingrandimenti sopra il 7x fanno perdere qualità al video questa invece è la lente anamorfica dal caratteristico colore blu l'uso di questa lente richiede un lavoro di post processamento perché altrimenti le immagini risulteranno allungate questo è l'effetto di questa lente immagini allungate e quindi richiedono un lavoro di post processamento il cosiddetto desqueeze questa lente ha un fattore di desqueeze di 1,18 e quindi una volta applicato questo fattore l'immagine diventa proporzionata con le caratteristiche bande nere cinematografiche questa lente introduce anche un leggero effetto grandangolare anche se non raggiunge i livelli della lente a 125 gradi di fove e questa invece è una clip girata con la camera principale senza nessuna lente aggiuntiva quindi tutto originale questo video non è non vuole essere un confronto sulla qualità video su altre cose è da intendere come una specie di aperitivo assaggini sulle nuove possibilità che ha questo firmware e direi che dji è riuscita nel suo intento ascoltando le tante richieste degli utenti insomma dopo il firmware iniziale che non era completo non rispettava tutte le caratteristiche dichiarate dji già con la versione rilasciata a fine gennaio ma soprattutto con questa ha rispettato ha esaudito le richieste degli utenti non solo ha completato il mavic 3 ma l'ho reso molto interessante soprattutto ripeto con questo aggiornamento firmware qua possiamo vedere la nuova possibilità di bypass elegante nifty che praticamente ammorbidisce l'aggiramento degli ostacoli però lo rende più pericoloso nel senso che avvicinandosi di più all'ostacolo il drone potrebbe impattare quindi è da usare con cautela poi come possiamo notare in modalità normale abbiamo uno per e sette questa non è la modalità explorer questa è già la modalità normale la modalità explorer è a parte quello che non mi piace di questa modalità è che manca la continuità che invece ha la modalità explorer mi spiego intanto se siamo a registrazione non possiamo switchare da 1x a 7x e in più se noi facciamo lo zoom in questa modalità usando ad esempio la rotellina e premendo il tasto funzione applichiamo lo zoom soltanto alla camera principale che può arrivare a 3x contro i precedenti 2x sono in 4k a 30 fps se io clicco su 7 come vedete non funziona devo interrompere la registrazione e poi cliccare su 7 ve lo faccio vedere con la lente wide angolo indicata vedete in alto lo dice che l'ha rilevata vedete ho dovuto interrompere la registrazione per andare da 7 a fare lo zoom da 7 in poi perché sono in modalità normale non è la modalità explorer però è tanta roba perché comunque questa possibilità mi permette di cambiare anche i parametri della camera tele vedete non sono in modalità explorer però sono a 7x posso cambiare gli iso posso cambiare la velocità dell'otturatore posso cambiare il bilanciamento del bianco da 7x fino a 28x perché sono una modalità normale in modalità explorer invece resta come era prima e cioè non si può cambiare niente però ripeto il vantaggio dalla modalità explorer è che ha continuità tra zoom 1 e zoom 28x attenzione che però il d log hlg non si può abilitare sulla camera tele si possono però fare questi cambiamenti manuali la cosa interessante come ho detto all'inizio di questo video è che anche montando le lenti grandangolari oppure anche l'altra lente anamorfica è possibile da adesso da questo firmware fare master shot fare i quick shot però non asteroid e funziona anche il focus track quindi active track poi e tutto il resto e funziona anche l'hyperlapse sempre con la lente grandangolare cosa che prima invece non si poteva fare perché il sistema rilevava che c'era installata la lente grandangolare impediva di fare queste cose vedete nel frattempo ho abilitato la modalità explorer col canocchiale vedete che c'è continuità in questo caso tra zoom 1x e 28x cosa che modalità normale non si può fare però con questa modalità explorer non si può cambiare niente ottimi miglioramenti anche sulla modalità tele in particolare a 7x zoom nativo ottico 7x dove è stata migliorata la messa a fuoco e adesso si possono fare dei video interessanti si può mettere a fuoco un soggetto in primo piano con lo sfondo ad esempio sfocato una specie di effetto bouquet e qua si apre un mondo si può fare si possono fare i dolly zoom si possono fare tante riprese scenografiche interessanti con la qualità video che non è esattamente quella della camera principale però per alcune applicazioni potrebbe andare bene per applicazioni web per certi video comunque può andare bene questa qualità immagine del 7x ripeto non è una prova esaustiva sono degli assaggini però per quanto l'ho provato sono assolutamente soddisfatto di questo aggiornamento firmware in primis per la capacità del gps che effettivamente è stata risolta quindi adesso fa l'on point molto più velocemente in linea con altri droni dji e poi per queste nuove possibilità lo sblocco delle lenti grandangolari e queste nuove possibilità sulla camera tele e l'aggiunta anche della hlg e altre cose insomma un ottimo aggiornamento il mavic 3 è diventato veramente grande con un po di creatività di capacità si possono fare veramente cose egregie anche senza utilizzare la versione cine bene direi che posso fermarmi qua vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto e vi do appuntamento al prossimo video su quadricottero news fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e iscrivetevi nel canale se non l'avete ancora fatto grazie a tutti e al prossimo video con quadricottero news buona continuazione e buon weekend a tutti